In due anni avevano generato un giro d'affari di oltre 330 milioni di euro nascosto al fisco. Un centinaio di imprenditori dediti alle vendite online sulle piattaforme di e-commerce sono finiti nella rete della Guardia di Finanza di Pescara che assieme al nucleo speciale Entrate di Roma e sotto il coordinamento della Procura di Pescara ha scoperto la maxievasione fiscale. Un dedalo di società che secondo le fiamme gialle non si fermava all'Italia ma andava anche oltre confine perché in questa indagine sono coinvolti anche una decina di soggetti esteri ma non solo ci sarebbero altre 750 imprese fuori dai confini nazionali spesso prive di identificativo fiscale italiano sulle quali sono in corso approfondimenti rispetto ai 600 milioni di euro di fatturato generato grazie proprio alle vendite online. Società rintracciate tramite i canali di cooperazione internazionale prima che potessero rendersi irreperibili ed ora oggetto di accertamenti fiscali ma la Guardia di Finanza di Pescara in questo periodo pandemico dove sono aumentate esponenzialmente le vendite tramite marketplace elettronici ha già fatto emergere ad oggi altri 300 milioni di euro sottratti al fisco italiano da imprese nazionali ed estere che hanno effettuato vendite nel nostro paese complessivamente dunque le vendite occultate all'erario scoperte grazie alla collaborazione fra i finanzieri di Pescara e Roma superano i 630 milioni di euro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti